Confindustria a Piemonte scalda i motori per la giornata a sostegno della TAV e conferma la presenza domani a Torino del presidente nazionale Vincenzo Boccia con 40 associazioni territoriali, tutti schierati per ribadire quanto sia necessario alla Torino-Lione per il futuro del paese e dell'Europa. Da Roma però intanto il ministro delle infrastrutture Toninelli conferma la necessità di un ripensamento dell'opera. Stiamo procedendo a un'attenta e oggettiva analisi per valutare effetti sociali, ambientali ed economici e vedere quanto e se i costi superino i benefici, ha detto. Olimpiadi ora a 2026, mentre la sindaca Pendino e il presidente Chiamparino sono a colloquio con governo e coni per la stretta finale, da pragelato arriva la proposta della sindaca Monica Berton. A segnare al suo comune le gare di sci di fondo a costo zero. Martino Villosio. 12 anni non cancellano un ricordo quando su una pista di fondo resta la firma di imprese memorabili. L'eco dell'oro olimpico di Giorgio Di Centa a suggellare i giochi di Torino 2006. Ma c'è anche il presente di un impianto funzionante e così da pragelato è partita la proposta a segnare al comune le gare di sci di fondo e biathlon delle Olimpiadi 2026. Non una fuga in avanti, chiarisce la sindaca Berton, ma una proposta di buonsenso. Uno dei pochissimi impianti di sci nordico dell'arco alpino pronti, cioè che hanno praticamente già a costo zero tutto il necessario per iniziare a funzionare, comprese le professionalità sul territorio. Un impianto, aggiunge Berton, che non esiste a Bormio, dove ad oggi sarebbero destinate le gare del fondo in base al dossier del CONI sulla triplice candidatura di Torino, Milano e Cortina. Mentre i fondi di compensazione al territorio di pragelato potrebbero essere destinati al superamento dei due trampolini per il salto con gli sci, impianti senza futuro. Il progetto è arrivato direttamente sul tavolo delle istituzioni e del CONI, dove oggi si discute la candidatura olimpica, con la speranza di essere ascoltati. Pragelato, come tutti noi comuni olimpici, montani, si adeguerà a questo disegno, insomma al disegno e al progetto che nascerà da questi incontri romani. Certamente non dimentichiamo e non vorremmo che i nostri amministratori dimenticassero che sul territorio delle Alpi occidentali, sul territorio di Torino 2006, esistono ancora degli impianti che sono assolutamente pronti. Vi raccontiamo adesso un'altra storia, quella di Carla e della famiglia kurda che da qualche mese vive con lei. Un innovativo progetto di inclusione sociale del comune di Venaus in Valsusa, che giovedì verrà portato a esempio in un convegno al settimo municipio di Roma. Francesca Anacini. È bello tornare. Nel sorriso della signora Carla, la gioia del ritorno a casa, a riportarla tra le sue mura al comune di Venaus. Grazie a una famiglia di kurdi e alleviti, in fuga dalla Turchia, maggioranza sunnita. Ali, Asli e la piccola Elisa sono arrivate attraverso la rotta balcanica, il viaggio pauroso nascosto in un tir, l'aiuto della carita a Sabolzano, la ridistribuzione della solidarietà fino in Valsusa, dove il loro destino si incrocia con quello di Carla. C'era un problema di tipo economico da parte della signora, che non poteva più permettersi le rette presso la casa di riposo. E poi ricordo che ha pianto per otto anni dentro questa casa di riposo, lei voleva tornare a casa sua, ma da sola non poteva vivere. Quindi noi, al piano di sotto, abbiamo aiutato a sistemare l'alloggio. Adesso questa famiglia farà neanche da badante, da assistenza e da compagnia a questa signora, in cambio, praticamente, della locazione. Una coabitazione che risolve le esigenze di tutti. Fa di Carla quasi una nonna, capace di abbattere le barriere linguistiche tra sorrisi e lavori a maglia, e offre alla famiglia, in attesa di asilo, un nido da cui ricominciare. A disposizione di Venaus, dove purtroppo non mancano i campi in abbandono, le competenze di Ali, che in patria coltivava alberi da frutto. Mi hanno portato in una vigna dove l'ho potato e dove aiuterò anche a raccogliere. Adesso facciamo qualche lavoretto che si trovano in giro perché vogliamo lavorare, non vogliamo stare qui senza fare niente. In futuro se troverò un altro lavoro lo farò perché questa è la nostra attenzione, non vogliamo essere sempre un peso.